buona serata qua da ronco scrivia eccoci qua siamo a documentare l'ennesimo crollo del guado avevano rifatto appena un mese e mezzo fa e questa è la situazione sta piovendo a dirotto con un allerta arancione in corso il tempo pessimo questo è il ponte nuovo di via bazzano dello scrivia che stanno appunto terminando come puoi vedere non è ancora completo quindi a seguito del successivo crollo del guado dopo quello che c'era stato a fine agosto 2023 la situazione è la stessa di prima gli abitanti di meretta di ronco scrivia sono nuovamente isolati intanto come potete vedere la pioggia non perdona e soprattutto c'è il rischio di avere delle alluvioni dopo tanta siccità ovviamente era ovvio che crollasse di nuovo la prima piena infatti hanno costruito una cazzata ma ovviamente era come prevedibile anche il nostro cartello che indica rischio alluvioni ci indica niente con l'ennesimo problema quindi qua adesso poi dovranno i poveracci devono farsi busà alla bastia per poter scendere nella valle e niente dal dal nuovo crollo del guado di ronco scrivia è tutto con lo scriva che sale in maniera minacciosa il tempo che è sempre peggiore e vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata grazie 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 grazie